Che mestiere hai detto che fai tu, babbo? Il povero. E quanto guadagna a fare il povero? Guadagna, tanto da non avere mai un centesimo in casca. Oh, come fa a campare? Per comprami l'abecedario, ha venduto la sua casacca, che trattò per ammendi, era tutta una piaga. Hai capito? Dì a tuo padre quando lo vedrai domani, che se vuole lavorare con me, gli fa fare fortuna nelle lontane Americhe, parola mia. Ehi, dagli queste da parte mia, così capisce che dico sul serio. Cosa sono? Cinque monete d'oro. Sono tante? Sono tante, ma nemmeno poche. Vorrei comprare al mio babbo una casacca d'oro e d'argento con i bottoni di brillante. Allora credo che siano poche. Allora, grazie. Hai, grazie. Grazie.